Il 1979 con motori in corrente continua e diciamo che abbiamo iniziato a servire le prime aziende che cominciavano ad elettrificare alcuni veicoli elettrici, spazzatrici, carrelli elevatori, generalmente piattaforme che sono ancora tuttora prodotti a cui noi diciamo offriamo i nostri l'auto elettrica gira da vent'anni ormai però all'inizio erano soprattutto prove, invece ci sono adesso dei clienti che fanno dei veicoli particolari che sono veicoli diciamo anche solo per il resort oppure per gli aeroporti oppure anche i semplici veicoli che vanno nei campi di calcio a raccogliere giocatori infortunati che sono tutti veicoli elettrici che vengono utilizzati e utilizzano tutta la componentistica che ho descritto prima motori, motoriduttori di vario tipo, batterie, controlli elettronici, tutte cose con cui il nostro prodotto viene venduto.